Il gruppo EWS con i suoi servizi di monitoraggio delle reti idriche fognarie ha l'obiettivo di ridurre le dispersioni idriche che ad oggi in Italia supera il 40 per cento, posizionandosi in una posizione in Europa non ottimale. In particolare l'UF Water Venture propone una soluzione innovativa tramite la prelocalizzazione delle perdite idriche con tecnologia radar. BM e idrostudi si occupano della parte di distrettualizzazione, quindi progettazione di distretti e installazione di strumenti di misura di portata e pressione per l'ottimizzazione delle reti. Il gruppo EWS di tre aziende, BM Tecnologie Industriali, UF Water Venture e idrostudi sono attenti a quelli che sono tutti i temi riguardo alla dispersione idrica e al suo contenimento. La dispersione idrica purtroppo in Italia è un problema e anche i nuovi progetti di PNRR e React EU si concentrano su quello che è la digitalizzazione di tutte le reti idriche. Il gruppo EWS è in grado di fornire servizi e prodotti per il suo contenimento.